Il nuovo vaccino bivalente di tipo mRNA sarà disponibile da lunedì in campagna. Si tratta del siero mirato contro il ceppo originale del virus SARS-CoV-2 e le sue sottovarianti Omicron 4 e 5. Una buona notizia che però paradossalmente rischia di creare confusione e di ostacolare la campagna di richiamo in corso. Sull'argomento è intervenuto il virologo Fabrizio Preiasco, docente di igiene alla statale di Milano. La scelta di velocizzare le autorizzazioni dei vaccini bivalenti anti-covid con un prodotto aggiornato a Omicron 1 già disponibile e uno nuovo adattato a Omicron 4 e 5 in arrivo a breve, ha detto, crea un'ulteriore confusione che potrebbe ancora una volta rovinare la campagna di richiamo. La cosa fondamentale, ha chiarito, non è inseguire l'ultimo modello come succede con i telefonini ma è fare il booster indipendentemente dal vaccino Omicron utilizzato. Secondo Preiasco soprattutto le persone fragili devono essere continuativamente protette visto che dopo 4-6 mesi dall'iniezione o dalla guarigione si perde la protezione massima contro la malattia grave. Anche dal professor Massimo Galli, già direttore di malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano e docente alla statale, l'invito a vaccinarsi subito con il vaccino immediatamente disponibile, soprattutto per gli anziani e per i fragili. Un dato preoccupante su cui riflettere è quello dei morti per Covid in Italia dall'inizio dell'anno. Circa 12.000 persone, un terzo delle quali o non vaccinato o ipovaccinato, cioè protetto da dosi insufficienti e senza booster, senza richiamo.